ciao a tutti buongiorno ben ritrovati sul nostro canale ma soprattutto un saluto da nocciola nocciolina l'estate sta andando avanti cielo grigio che da una parte fa piacere perché tiene più bassa la temperatura si riusciamo a fare molti più lavori esterni perché non fa tutto questo caldo e ci cambia la vita lo scoprirà che stava facendo in questo video come la tentano e riusciamo fare un po di lavoretti ma poi siamo obbligati a fermarci perché c'è un pupetto un pupetto da allattare e deve ancora abituarsi al ciuccio al biberoni chiamiamolo però allora noi mattino vediamo un po poi facciamo più 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 tappe più tappe durante la giornata entra un lavoro un altro se adesso noi andremo a finire un po di lavori qua dietro tra cui nel frutteto iniziamo a pulire il frutteto perché l'abbiamo completamente dimenticato e poi andremo con nocciola a prenderci cura di miele e poi tornaremo magari a sistemare la legna a pulire il cortile poi tornaremo da miele e poi e poi ogni volta che vado a miele però io mi cambio perché ho l'abbigliamento per allattare perché io mi sono ormai tu sei così perché il giustamente io lo tengo in braccio e poi ho più latte io che allora io mi cambio tutte le volte per cui lena di cespugliatore frutteto orto miele 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 andiamo da miele no andiamo a di cespugliare miele tra ore 1 2 retta alla pappa e tu quando fai la pappa buongiornissimo ragazzi andiamo vai allora prima cosa che andiamo a fare è far vedere quello che stiamo costruendo lentamente a tempo perso tra l'altro qui c'è lo zafferano qui lo zafferano dell'anno scorso che dovremmo trapiantare dovremmo trapiantare dovremmo trapiantare là c'è l'ola ciao l'ola ehi signorina e niente quando sente il campanellino l'ola sono i tre millimetri dell'altro giorno allora qui adesso vorremmo fare tutto un recinto con quei pezzi di legno di scarto che ci ha regalato piero il mitico peter per delimitare la stazione meteo e rendere anche un po più presentabile e adesso quello dovrebbe essere il frutteto laggiù e noi dobbiamo tagliare tutta quell'erba la io porto giù con un rastrello carichiamo la cariola e così stasera le ragazze installano erba fresca che c'è fregoli anche qua mamma mia guarda questa io mi sono facciamo uno scambio mi è venuto in mente di provare andare a prendere la falciamano e dare una prima passata con la falciamano intanto c'è nocciola che parla nocciola avrà trovato un amico casper nel bosco ogni tanto c'ha casper si lì c'è sempre casper perché abbaglia sempre al nessuno ora simone ci mostra come si utilizza la falce nocciola vieni qua non è male no poi tu rastrelli così rimane più lunga e poi gli dai un crepe col decespugliatore per farla più fine lo stile non è bellissimo arrivando la ragazza con rastrello ecco voi la ragazza con rastrelli nel rivo ora un po se ha senso quello che ho fatto vabbè e poi così ci andiamo giù di di cespugliatore che la tagli più fine la taglio corta potremmo cambiare nel nome del canale in la presenza di nocciola niente tutto quello che facciamo deve controllare ma che bella è tra l'altro abbiamo scoperto che per tanti di voi che venite a trovarci che vedete i video voi pensate che nocciola sia un cane grosso cioè lei è piccolo lei proprio è così come se eppure tanti dicono che dietro la telecamera sembra grande eppure tanti dicono che vedete eppure tanti dicono che vedete La prima passata è fatta, Romi sta continuando a rastrellare, consentendo che l'erba era quasi alta fino a qui, ma io non pensavo o meglio, l'avevo già fatto un anno scorso. La mia non tecnica è pesante, anzi se c'è qualcuno che vuole dare delle dritte a sto giro, datene quanto ne volete. Tosta? Io sai cosa farai adesso? Sì. Aspetto che tu viengi da strillare, poi andiamo a vedere miele. Sarà l'ora della poppata. Sì, e poi così dopo vediamo un se iniziare a spugliare o finire tutto e poi ce n'è da fare. Però secondo me... Oddio, nocciola. Nocciola sta facendo le capriole, si è rotta laggiù. In giù? Perché così almeno si gratta la schiena. Andiamo da miele. Andiamo. Finisco un attimo qua. Sì, io inizio a preparare il biberon. Adesso noi andiamo da miele, vero? È il tuo fratellone, fratellino. È arrivato il momento della poppata. Ciao, poppata. Ciao miele. Nocciola. Guarda. Ora vediamo come va. Stiamo imparando col biberon. Diciamo che sono giornate veramente non intense di più. Abbiamo cambiato il ciuccio perché subito noi, non essendo esperti, ci siamo affidati a un negozio e ci ha dato un ciuccio che in realtà poi abbiamo scoperto che è troppo duro. Infatti... Abbiamo entoppato. Abbiamo entoppato. Cioè, abbiamo entoppato. Noi ci siamo messi nelle mani del commerciante. Però no. Dio benedica Odisio. Dove noi ci attrezziamo di qualsiasi cosa, dal bacchè e tutti i fili, andiamo sempre da lui, che Santa Odisio ci ha dato due ciucci proprio di quelli che vanno bene per questo piccolino. Quindi... Bravo. Bravo e bello il miele. Sì, che poi la cosa pazzesca è che si sta addormentando di continuo quando vediamo il letto. Sì, si addormenta paura con il miele. Questo è uno dei momenti più belli perché c'è il momento pulizia. Sì. Nocciola, vieni. Dai, è il tuo turno. Vieni Nocciola, vieni che tocca a te. Nocciola, vieni, dai. È il momento in cui Nocciola si applica con il suo nuovo fratellino ed è dolcissimo. Guardate. Una pulizia, veloce. Brava. Nocciola, vieni, Northern Antiochica. Romina si è ricambiata perché è sporca uguale però l'altra è proprio ingestibile chiedo scusa che ho iniziato con quella maglia anzi ho iniziato con un'altra sai come me non cambiarti diventa un caprone anch'io un becco comunque adesso abbiamo una ariete un condo c'è la l'erba tagliata adesso romi io inizierò col decespugliatore romi invece riempie le cariole gliene porta un po nel bosco a cocce luce e poi il restante glielo portiamo nella stalla così poi stasera quando andranno a dormire avranno già la pappa pronta te la tolgo appena fatto l'uovo ma hai fatto l'uovo qua senti quanto è caldo ti giuro mi sono spaventata ma brava ma gira ma ti pare era lì e venuteva da 30 secondi ma è bollente brava brava ma è un po' arrabbiata mettilo laggiù così poi gira ma meno meno l'abbiamo pestato gira prenditi tutto il tempo che vuoi visto che continua a fare l'uovo è un po' di nuovo è un po' di nuovo terza pausa di oggi c'è qualcuno che ha bisogno di cocco del vero miele adesso arriva il latte gioia santa guarda che arriva il latte arriva il latte chiamano un po arriva il latte anche si è cambiata è arrivato la roba veramente sembra che l'ospite sembra che allati davvero tu effettivamente ne ho ovunque perché c'è qualcuno con pasticcione no ma non sia mai ehi ma questo lo vuoi buona ciao nocciole ho fatto un paio di giri col trattore e ora bisogna iniziare a spugliare la manetta per abbassare così inizia a essere avere il suo perché però con ecco la solita davis bene 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 coccine le luce apprezzano per cui grosso l'abbiamo fatto ora di ci spugliamo e poi vediamo se lasciare qua che faccia un po di fieno che così soffre con più l'arbre che cresca meno oppure rassalare ma lo vedremo strafacente tanto ci sarà di sicuro un'altra pausa miele un'altra pausa un'altra pausa eppi lui è tuo fratello e si è proprio tuo fratello lui questo gatto qua ciao eppi miele quello là è tuo fratello un'altra pausa un'altra pausa che si fa una pausa uno un'altra pausa viene un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E finisce anche questo episodio col biberon e un patatino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un saluto dalla brigata con miele in aggiunta. Viva! La montagna sempre. Ma soprattutto viva cuneo e latte del piccolo. Ciao! Alla prossima puntata. Per notare il vostro soggiorno e le vostre vacanze da noi. L'estate sta finendo? Sì, è appena iniziata. Buone vacanze, buon estate, buon tutto e vi aspettiamo numerosi qua. Ciao!